Continuano a farci credere che il problema sono i rifiuti urbani, è una palla, non è vero, sono i rifiuti industriali prodotti da questo circuito venenoso come l'ilma di Taranto, quello è il problema. Il problema che esiste è un sistema che non funziona più, che non è sostenibile, che non tiene conto della vita umana, dell'ambiente, questa è la verità. Sono i veleni prodotti da questi circuiti industriali e non dobbiamo dire no a tutto questo, ma una vera e propria politica di riconversione industriale che tenga conto della vita e dell'ambiente. Non cediamo il diritto alla vita dignitosa ed un lavoro dignitoso. Grazie. Allora, loro sono pronti. Siamo qui, tra di voi, perché il vostro futuro vale, quel futuro che ai nostri bambini è stato spezzato per inghiavia, per egoismo, per assenteismo istituzionale, per collusione, per politica corrotta. Mio figlio era un musicista, era un batterista e io oggi qui sono estremamente emozionata e spero che lui sia qui ad ascoltare la sua mamma e a tutti i miei giovani. Affinché il vostro futuro non vi sia rubato, grigate, rinunate e manifestate quanto qualcosa non fa sui vostri territori. Guardate lo per i nostri figli, perché i nostri figli avevano il diritto di essere qui, di vivere. Grazie.